Buonasera a tutti amanti del calcio, siamo qui questa sera a commentare, finalmente di nuovo con la voce, a commentare la partita tra Coca Juniors e Condor FC Qua il Coca Juniors deve lottare per conquistare un posto tra le semifinaliste, qua palla persa del Condor, attenzione, il serivetto dietro, Davideia, no decisivo, decisivo Qua palla dentro del Condor arriva, uh, gran parata, qua in fase di impostazione il Condor sbaglia nuovamente, Davideia, no, gran parata Qui il Coca recupera in fase dispensiva, riparte, 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 davanti al portiere poco lucido, attenzione, qua ancora il Coca Palla fuori, numero 11, la botta, gran parata del portiere Attenzione, ancora il Condor qui che attacca, mette dentro Mamma cosa si è mangiato Attenzione, gol, qui Nel Condor, dopo Con una Papare il portiere, sono infortunio Infortunio Chissà se ce la farà continuare Il Condor probabilmente dovrà rinunciare Al suo attaccante Eh, Condor è in 7 contro 8 Uh, attenzione, qua Continua l'attacco del Condor, sempre col numero 9, doppietta 2 a 0 del Condor Che nel secondo tempo va avanti di due gol, però il Coca non ci sta Prendono il pallone, 2 a 1, partita emozionante Attenzione, qua Lo butto Deviazione decisiva 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 Attenzione, qua saltano da calcio d'angolo, ma niente Qua ormai il Condor si difende con l'unchio e con i denti Spazzano il pallone in avanti E il pallone rimane bloccato Il portiere Spider-Man 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 Il portiere Spider-Man Attenzione, qua il Coca In fase difensiva, un po' di confusione il number 9 Si riprova la botta, ma Che da fare, qua Dalla difesa, lancio lungo, alla Bonucci Mette fuori Il difensore del Coca In modo decisivo Attenzione, qua forse Un'altra azione del Coca Che mette Eh, dove fa lo di mano Brutto, bruttissimo Adesso calcio di punizione Va direttamente in porta Davide Iannò Sicuro Un dubbio se c'è stato un tocco con la mano Però Era attaccato al corpo Quindi Adesso manca Manca pochissimo Mancano Forse manco 5 minuti Qua Si rifugia in rimessa laterale Il difensore del Coca Il Condor continua ad attaccare Ma il Coca si difende Il Coca si difende Un pareggio sarebbe ottimo Attenzione, qua non ci arrivano L'attaccante Anche un pareggio sarebbe ottimo Qua per il Coca Rimessa laterale intanto Per il Condor Coca-Condor Coca-Condor Attenzione, 1-2 1-2 Qua il portiere Sicuro Attenzione, sulla fascia Parte Recupera la parte del Condor Numero 11 Che rientra di capo Numero dove Davanti al portiere Cosa si è mangiato Cosa si è mangiato Attenzione, passaggio pericolosissimo Qua a Gabuliese Prova dalla distanza Troppo Debole Tiro strozzato Strozzato come Massimo Bossetti Ha strozzato ieri a Gambirasio Attenzione, qua il Coca Ancora in avanti Niente Davide Iannò Tenta l'assist Attenzione Ho provato la Banfel Qua la partita è emozionantissima Questi minuti finali sembrano infiniti Sembrano infiniti Col Coca Che tocco Davide Iannò Sicuro Qua si riparte dalle retrovie Però c'è il pressing del Coca Può essere efficace Davanti al portiere Cosa si è mangiato Cosa si è mangiato Attenzione, fava Fava Allarga Prova la botta No, invece un passaggio Mette dentro Strozza il tiro Attenzione, qua il Coca Ancora in avanti Prova l'ultimo assedio Ragionando però Però qua c'è poco a ragionare Qua Esce sicuro Davide Iannò Esce sicuro Davide Iannò Fa solo la palla e spazza Più in avanti che si può È un passaggio per l'altro portiere Attenzione, qua il Coca Probabilmente l'ultima azione Probabilmente l'ultima azione Attenzione, qualche rimpallo Vai in avanti La botta Attenzione Polo, cosa è successo? Salvataggio sulla linea Attenzione Ancora il Coca No, colpisce Quante emozioni Quante emozioni Rinvio di Davide Iannò E mi sa che è finita Ancora no Ancora si continua Attenzione Tutti in avanti Tutti in avanti Ultima azione Ancora No, la palla fuori Cosa si è mangiato il Coca